Ciao a tutti amici di YouTube, oggi andiamo a vedere come proiettare lo schermo del nostro dispositivo Windows Phone sul PC Allora, premetto che sarà una proiezione non remota, dunque dovrete collegarla tramite cavo USB Allora, ci servirà un semplice tool dalla dimensione minima di 1,11 MB, dunque veramente banale la dimensione che fa gestire Windows Dunque, vi lascerò in descrizione la pagina ufficiale Microsoft per poterlo scaricare E una volta scaricato, io per comodità ho messo i file all'interno di una cartella, perché appunto sono due Allora, noi quello che dovremo andare ad eseguire è questo, Project My Screen App Si avvierà a tutto schermo e ci comparirà una finestra di dialogo sul nostro Windows Phone dove dobbiamo consentire la proiezione dello schermo Dunque, possiamo fare su sì o no, ma in questo caso andiamo a fare sì Il terminale è gestibile sia da computer sia da cellulare Dunque, se volete, potete spostare tramite la freccetta del mouse O, nel mio caso, il trackpad Oppure gestirlo dal cellulare Dunque, dovrete usare il touch dello schermo del dispositivo Allora, vi consiglio di utilizzare naturalmente il touch del dispositivo Non utilizzando il mouse del computer perché velocizzate l'uso che ne dovete fare In questo caso io l'ho ridotto a finestra ingrandita Non a tutto schermo Ve lo consiglio perché la risoluzione, man mano che andiamo a diminuire la finestra, come vedete, aumenta E comunque un'altra premessa che se dovete scegliere fra remoto o cavo USB Utilizzate ovviamente il cavo USB Successivamente, una volta chiuso il programma, non dovrete fare altro Non verrà visualizzata nessuna notifica nel nostro Windows Phone E comunque non lo spiello Ancina 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 Grazie.